La cronaca in apertura delle nostre breaking news per parlarvi di un incendio avvenuto in un appartamento questa mattina in località Manciano alle porte di Castiglion Fiorentino. Due le persone che sono rimaste coinvolte sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Una donna di 74 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Careggi di Firenze mentre l'altra persona è attualmente all'ospedale cortonese della Fratta. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Cambiamo adesso argomento per aprire una pagina dedicata alla cultura. È arrivato alla Fraternita dei Laici per presentare il suo libro Ecce Caravaggio e per parlare di uno scambio attuato proprio tra la Fraternita dei Laici ed Urbino. Parliamo di Vittorio Sgarbi che ha incantato il pubblico aretino. Per quanto riguarda lo scambio di cui parlavamo poco fa si tratta di un dipinto di Bartolomeo della Gatta che è appunto andato ad Urbino mentre da Urbino è arrivata alla Fraternita un ritratto di Guido Monaco. Rimaniamo come anticipato sempre sulla pagina della cultura perché ieri Aike Schmidt era ad Arezzo per il progetto Uffizi Diffusi. Dopo i sopralluoghi in città per visionare gli spazi che potrebbero far parte di questo percorso il direttore della Galleria Fiorentina è stato ospite di Casa Museo Ivan Bruschi. Questa è la nostra ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Continuate a seguire Teletruria. Grazie per la visione.